Musica Mancano 50 giorni alla Capitale Europea della Cultura per far sentire i cittadini partecipi, lo sappiamo, ve lo stiamo raccontando. La Fondazione Matera Basilicata 2019 sta mettendo in atto in tutta la città di Matera i laboratori di Lumen Socialite, i cittadini, le mamme, i papà, i nonni stanno realizzando quelle che sono le backlight, ovvero delle borse luminose che vedremo in piazza, ma non solo, il 19 gennaio del 2019, il giorno della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura. La mattina del 2 dicembre siamo stati dal maestro Casiello che ha ospitato le MOM, ovvero le Mamme Materane all'Opera, un gruppo informale di mamme, diventata un'associazione che si opera, si adopera per il territorio, si dà una mano, cerca di fare aggregazione. E quale migliore aggregazione se non creare insieme con un maestro artigiano le luminarie per quella cerimonia? Stiamo facendo questa borsetta. E poi che fine farà questa borsetta? La fine che sarà la porteremo la notte con le lucine accese. Laura, perché le MOM hanno accettato di prendere parte al laboratorio? Perché le MOM sin dall'inizio, dal periodo di candidatura di Matera a Capitale della Cultura per il 2019, e ancora prima di essere un'associazione, quando eravamo semplicemente un gruppo di mamme, abbiamo sostenuto questa causa. Proprio perché noi siamo Matera 2019 e quindi continuiamo su più progetti, quanto più ci è possibile, a partecipare a quello che c'è possibile di prendere parte. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori, per chi non lo sapesse, cosa fanno le MOM? Cosa sono? Chi sono? Dunque, l'associazione MOM, mamma e materanea all'opera è nata come un gruppo Facebook di autoaiuto. Cioè, come se avessimo voluto creare su Facebook un antico vicinato dei sassi, in cui appunto le persone si scambiavano aiuto, consigli e quant'altro. Proprio perché la nostra socia fondatrice, Tina Festa, aveva appunto pensato, aveva provato sulla sua pelle che non ci fosse un aiuto per le mamme dopo la nascita del proprio figlio, mentre prima della nascita, in fase appunto di preparto, l'aiuto c'è grazie al consultorio. Noi organizziamo occasioni di incontro per le mamme, per le famiglie, per i bambini, quindi occasioni di incontro, di creatività, di manualità e abbiamo anche, sempre con la Fondazione Matera 2019, l'onore e l'onere di gestire uno dei giardini di comunità del progetto Garden Topia. Quindi per l'anno prossimo voi sarete anche protagonista di là del laboratorio? Sì, nel nostro piccolo cerchiamo di essere protagoniste aiutando la Fondazione, insomma, nei piccoli progetti che possiamo sostenere. Laura, invece ti chiediamo, sia da mamma che da cittadina, cosa ne pensi di quest'anno che sta per arrivare? Sono molto emozionata, sia da mamma che da cittadina, insomma, questa frenesia piacevole e positiva che respiriamo in città, per me è una... cioè sono proprio orgogliosa di poter vivere questo momento magico per la nostra città. È stata una domenica un po' diversa, di condivisione con altri bambini, altre famiglie e abbiamo realizzato il nostro pezzo, insomma, per rappresentare un po' Matera 2019 perché noi vogliamo esserci, ci siamo state quando abbiamo realizzato le bandiere e quindi continuiamo a essere... cioè ci vogliamo inserire, insomma, in questo contesto per partecipare attivamente. Invece per l'anno prossimo, quindi, pensieri quali sono? Pensieri che comunque sono abbastanza positivi perché io non sono originaria materana, sono una materana adottata e sinceramente do il massimo per questa città perché effettivamente lo merita e sono veramente contenta, insomma, di essere stata, insomma, adottata da questa città e mi fa piacere coinvolgere i miei figli perché comunque è importante crescere e portare dentro le radici della propria città, coltivarle e coinvolgerle in tutto quello che comunque li porterà a crescere, insomma, con questa cultura, insomma. Oggi, per esempio, c'è questa borsa, diciamo, luminosa, con questo strip led. Più che altro siamo più emozionati noi, più vogliosi di fare che i bambini. Adesso siamo nella prima fase di realizzazione di questa splendida borsa luminosa. Per l'anno prossimo, invece, l'augurio che papà fa a un figlio dall'anno prossimo in poi? Beh, un futuro prospero di tante iniziative che vada al di là, diciamo, di Matera 2019 anche per la nostra città e che vada tutto per il meglio per i nostri bambini. Maestro, noi ti abbiamo sempre intervistato fuori dalla bottiga, oggi invece sei a casa per il lavoro con i bambini. Sì, oggi ho il piacere di condividere i miei spazi con questa associazione che è sempre gioiosa, piena di bambini e mi fa veramente molto piacere. Invece le attività con i bambini, per esempio oggi con la manualità, quanto sono importanti? Sono importanti, io punto molto a questo. La mia è anche una scuola di fallegnameria e lavoro anche con gli istituti scuole medie, scuole elementari. È importante perché lo stile di vita moderno fa sì che i ragazzini siano chiusi in casa, magari con la Playstation e i cellulari. Sono molto curiosi però, quello non lo perdono, la curiosità non viene mai persa e quindi sono felici di poter usare le mani. Sulla base, diciamo, dei laboratori che tu hai tenuto Massimo insieme a Tommaso, che cosa hai notato per esempio ai ragazzi superiori, anche ai cittadini, se si sente questo fervore, hanno bisogno di questo tipo di attività per stare insieme? Sicuramente questo tipo di attività creano l'abitante culturale. Cioè noi tutti ci sentiamo abitanti culturali di Matera 2019, no? Però questo tipo di attività fanno sì che la gente tocchi con mano veramente cosa vuol dire. Cioè non è più solo uno slogan oppure la bella mostra nei sazi o il concerto. Ti rendi partecipe e quindi chi viene, soprattutto chi accetta di fare queste cose, già ha uno spirito diverso, quello della collaborazione. Però è molto preso e tocca con mano la candidatura e non la subisce. Da papà, dato che stiamo parlando di mamme, di genitori, da neopapà questo 2019 come te lo vedi? Ovviamente è un trampolino di lancio per noi, ma soprattutto per le nuove generazioni. Mio figlio è ancora un po' piccolino, non lo vivrà pieno, anche se lui adora la musica, quindi lo portiamo ai concerti. Però spero che non finisca qui, che lui possa beneficiare dell'effetto dello strascico poi dell'anno da capitale. Sono ancora più particolari, Tommaso, questi laboratori perché da fuori la città come una prima sperimentazione, adesso nella città toccate con mano anche la voglia dei cittadini. Certo, soprattutto è questo il nostro obiettivo. Puntiamo a numeri anche molto alti che non sarà facile riuscire a fare, però proprio per questo, per cercare di arrivare un po' come fatto con le bandiere, però questa volta abbiamo un po' alzato il tiro perché prima era una bandiera da colorare, adesso è qualcosa di un po' più complesso, però è quello lo spirito e il disegno che c'è un po' dietro a questa iniziativa, arrivare ai cittadini e aiutarli a farli portare luce nel 2019. Come è andata la giornata? È andata benissimo, ogni occasione è quella giusta per partecipare a Matera 2019, ci stiamo preparando, ci è capitata questa opportunità in città e quindi anche a noi. Quindi non appena è possibile partecipiamo, corriamo e stiamo entusiasti ogni volta. Quindi da mamma per il prossimo anno che cosa si aspetta? Mi aspetto tantissime attività, sia come mamma per mio figlio, ma sia anche per me come abitante di Matera, sperando insomma di partecipare il più volte possibile. E lui si è divertito? Sì! Nel pomeriggio però siamo stati presso la sede degli scout in piazza Cesare Firrau. Non soltanto hanno realizzato le baglite, ma noi abbiamo chiesto loro anche un'impressione sul 2019, come facciamo un po' a tutti i cittadini che incontriamo, soprattutto a loro che sul territorio lavorano tutti i giorni, che hanno visto la trasformazione di questa città. E quindi è ancora più bello capire da loro cosa si aspettano da questo 2019. Ci dà un'impressione personale sull'attività che avete svolto oggi con la fondazione? Beh, una cosa molto carina, manuale, quindi riprende un po' le nostre attività, è ingegnosa. Dato che ha detto che l'attività riprende un po' quello che fanno gli scout, lo possiamo raccontare ai nostri telespettatori che non conoscono dove siete, cosa fate, quanti siete, l'attività sul territorio che voi fate da sempre? Vabbè, la nostra attività è rivolta prevalentemente e soprattutto ai giovani e ai ragazzi che fanno un'attività educativa ma con il gioco. Noi principalmente siamo a Matera, in centro, in via Lupo Prodospada, questa è la nostra sede. Matera sta cambiando, si vede molta gente, molti locali che stanno aprendo, il traffico, ci sono alcuni inconvenienti, cioè noi materani abituati alla nostra tranquillità ci stiamo diciamo pian piano abituando a ritrovarci con parecchie persone. Per i giovani invece uno sguardo dopo il 2019, per i giovani che cosa ti auguri da giovane? Da giovane? Più eventi per noi, la sera trovare delle alternative alla solita passeggiata in mezzo al corso. È un anno che ci vede parecchio impegnati e Matera si sta trasformando, è sempre più piena di turisti, di gente e speriamo bene che non ci facciamo sfuggire questa opportunità che è veramente importante per Matera. Sta cambiando, dobbiamo cogliere l'occasione per farla crescere sempre più.